Dovrà rispondere di rapina, mano armata, evasione, detenzione legale di arma e ricettazione Gaetano Di Nichilo, 23 anni, arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia. Il giovane è stato bloccato dopo una rapina ad una stazione di rifornimento messa a segno con la collaborazione di un complice e è riuscito a fuggire a bordo di uno scooter. Anche il 23enne, alla vista degli agenti, ha provato a fuggire durante il tragitto si è disfatto del casco e di alcuni undumenti. Mentre cercava di raggiungere la sua abitazione, gli agenti lo hanno bloccato e perquisito. Il ragazzo è stato trovato in possesso di una pistola salve modificata, munita di caricatore e cartucce con colpo in canna e cane armato. Di Nichilo, già sottoposto alla misura domiciliare, è finito in carcere. Sono in corso le indagini per identificare il complice riuscito a farla franca e valutare l'eventuale coinvolgimento di due in altri episodi delittuosi commessi nei mesi scorsi ai danni di alcuni esercizi commerciali di Canosa di Puglia.